Netflix ha annunciato un nuovo live action di Gundam, il gigante robot giapponese creato da Yoshuki Itomino, autore anche di Daetan 3, e Hajime Yatate nel 1979. Per la direzione del live action ispirato a Gundam, Netflix ha scelto Jordan Vogt Roberts, il regista di Kong Skull Island. La sceneggiatura è affidata invece a Brian K. Vaughan, noto per aver scritto numerose serie a fumetti di successo e show televisivi come Lost. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli né sulla trama né sulla possibile data di uscita di questo nuovo live action. Ma chi è Gundam? La serie, realizzata dalla Sunrise, venne divisa in 43 episodi ed è forse una delle più belle saghe fantascientifiche dell'animazione giapponese. La storia di Gundam è ambientata in un futuro prossimo, quando, a causa della sovrappopolazione terrestre, gli uomini hanno dovuto costruire delle stazioni orbitanti intorno alla Terra, chiamate Saibu. Il principato di Jon, comandato dalla dinastia Zabi, vuole sottomettere tutti gli altri satelliti. A contrazzare tutto questo arriva Gundam, pilotato dal protagonista della serie Peter Hammuro, che, a bordo del gigantesco robot, combatterà finché non tornerà alla pace fra gli abitanti. E voi, cosa vi aspettate da questo nuovo live action di Gundam, targato Netflix? Fatecelo sapere nei commenti e restate sintonizzati sui nostri canali per il prossimo video.